...dobbiamo temporaggiare un po' perchè stanno facendo i conteggi quindi volevo sapere anche dalla giuria cosa ne pensano di questi nostri dieci cattari vai, vado io, vado io hanno già il microfono allora partiamo, dobbiamo dire una battuta così come tutti, così capiamo cosa è successo allora, partiamo dal nostro primo giurato il nostro Giuseppe Gaggeggi apriamo il microfono salsa e devo dire che questa sera sicuramente è molto a quinta non essendo professionisti, voglio dire molto a quinta qualcuno potrebbe anche andare molto non si sente, potreste assare un po' il volume della voce? si, si, io sono un oratore, un osservatore bucana qua mi faccio i complimenti a tutti, è stato molto difficile dare dei voti e quindi in bocca al lupo in bocca al lupo a tutti, grazie Giuseppe Gaggeggi volevo lasciare Francesco prima le donne è certo, è certo sono stati tutti molto molto bravi tutti, nessuna scusa quindi si merita un applauso eh sì, eh sì, eh sì, eh sì, ce lo merita complimenti per la preparazione, anche se non sono dei professionisti, non ha nulla da togliere diciamo a loro che già lo fanno di professione, esatto grazie, grazie mille Romina a te la parola di tutto quello che pensi, non ti preoccupare no vabbè, io ho già delle preferenze perché mi hanno trasmesso qualcosa ovviamente non dico i nomi perché mi hanno trasmesso che te l'hanno detto? le emozioni! ma oggi, ma oggi tutti quei miei parole maliziosamente vorrei sapere cosa sta succedendo no, adesso no, sto scherzando ma no, no, no e quindi c'è qualche preferenza particolare qualcuno che magari poteva diciamo, direzionarsi un po' meglio, no? sì, sì sicuramente c'è qualche qualcuno, sì, che si è diciamo distinto ecco, distinto ti ricordi le vocelle dell'anno scorso? le hai ritrovate di portandoli, no? mi ricordo che tu mi hai detto no, mi dimetto in questa posizione no, Dani mi devi fare un po' mi dimettere, proprio ultima è vero è vero ti mi hai detto per favore perché non ce la faccio molto alternatina molto alternatina grazie Romina te bravo beh, che dire io i ragazzi li ho seguiti dall'inizio di questo percorso li ormai li conosco mi sono anche un po' affeggiata a loro devo dire che mi hanno stupito mi hanno sorpreso perché poi appunto non sono professionisti però se la sono cavata secondo me benissimo e spero che venga il migliore sono questo assolutamente e soprattutto è un divertimento esatto esatto bravo è tutto un gioco lo dissi perché hai visto di dove ho vinto ma è tutto un gioco è un bel gioco tutti partecipano e poi ci sarà qualcuno che vincerà come penso che sia nella vita ci sono cose molto più importanti che credi vero 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 è vero la sua mi ricorda un attimo a Francesco voleva dire due battutine dimmene no onorami hanno rispetto allora io non conoscevo i ragazzi perché non ho subito le selezioni delle selezioni mi aspettavo di peggio perché no dico perché essendo un concorso karaoke non si aspetta di peggio invece questo è un concorso economico quindi sono molto bravi Daniele ti vedo come un futuro presentatore magari di peparai iniziamo dalle reti siciliane poi devo dire che anche tu sei una bella sorpresa grazie comunque ragazzi sono molto bravi e c'è qualcuno che mi ha colpito in maniera particolare sia per la voce ma per come è apparso come si è mosso ci chiediamo particolarmente ad averti in giuria non so se te l'ho mostrato in queste due settimane perché ti ho stressato particolarmente perché mi odi ora dobbiamo ma no non ho te nessuno ma di acquisto anche di quattro finamisti no? sì adesso c'è una prassi un po' particolare infatti ho corso all'inizio per avere un po' più di tempo dopo volevo gentilmente sapere se qualcuno mi dà accenno da dietro le quinte se le votazioni sono concluse vado un attimo a vedere perché qui è tutto light quindi è difficile ah e già c'è mamma mia che sono veloci hanno conteggiato tantissimi voti vogliamo andare più spesso sul palco ti amiamo a non sì dobbiamo no prima dobbiamo abbassare le luci e fare entrare i nostri dieci finalisti grazie a tutti e salve ai nostri finalisti Facciamo un applauso a loro che hanno stato battendosi per questa vittoria, per questa vincita Mi raccomando ragazzi, come diceva Darix, ha ragione, è un gioco Quindi divertiamoci e prendiamolo come un divertimento E a questo punto, sai chi torna, Darix? Chi chi? La vallettina Quella che... Come? Sì, sta per entrare con la nostra busta Bravola! Non me la dai? Non me la dai Grazie Nora, grazie, grazie, grazie Prenditi al centro dei gattanti E poi devi direzionati Perché Darix, se tu prenderai... Sì, passa o non passa? Facciamo così Io mi prendi passa e tu mi prendi non passa Ah, proprio Te li prendi lì E io mi prendi passa da qui Ho capito Ci sei? Apriamo sta busta, apriamo qua Io i non passa? Dobbiamo fare... Eh sì Dobbiamo fare scannare proprio Ok Allora, un attimo perché c'è... Devo vedere un attimino quattro cosette perché qui la situazione è complicata I passa o non passa? Eh sì Dobbiamo andare a vedere Allora, in questo caso c'è un piccolo... Dov'è la nostra Marica? È con noi? È tutto live, quindi può capitare qualche piccolo errore Marica? C'è E la peri passa o non passa? Ok Non è? Il nostro rigente ce l'ha? Mi spiegate un attimo l'occhio di pure così vedo il nostro rigente Ok Darix, devo lasciarti un minutino magari almeno così e devo vedere un attimino il tutto E qui è un po' complicato però Se hai un po' di giallo Va bene, allora, partiamo con la numero uno Darix, devo farlo io e questo piccolo imbroglio Però cambina, è difficile, imbroglio Allora, facciamo la numero zero Uno Deborah, raccogli il centro del palco Eh sì Ci siamo? Allora, da questo momento chiedo alla regia di abbassare i volumi E di andare a vedere se passi o non passa E finalissima DJ, ci togla Non passi, non passi Un applauso Dario, vuoi dire qualcosa per la nostra decora? Non si chiama pecora? Pecora 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 Ma pecora Non fai passare E' tutto più gioco Va bene Rimane qua? Sì Ma beh, non passa Andiamo avanti Andiamo avanti Con Il codice numero Zero tre Rossella Raccogli il centro del palco Raccogli il centro del palco? Mi sembra La bene, se Lo raggiungo Settina da D'accordo Dalla De Filippi Ma devi essere disposta Ma dai Sei pronta? No Giulia Luci DJ Jingle Non passi Non passa il turno Un applauso anche per la nostra bella Rossella Rossella L'altro codice Codice numero Zero Nove Simone Raccogli il centro del palco anche tu? Raccogli Sì Ormai lo dirò così fino alla fine Sì Mi piace Lo dico Che ne frega Pronti? DJ Jingle Sì 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 Guarda la soglia da questa parte Ah io quindi no in qualità? Eh certo E tu hai vent'anni di esperienza Io di meno Andiamo avanti Lui di Nelly Assolutamente L'urba da ragazze Andiamo 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 avanti Codice numero 08 Enzo Centro del palco DJ Gingola Non passi Lui vant'anni a settembre Un passo C'è un altro che cosa Da il sesto Il settimo E via Vieni discorrendo Con tutti gli altri Andiamo andiamo avanti Andiamo avanti E al centro del palco Codice numero 04 A te non vido la mano che sia un uomo Passiamo le luci DJ Jingle non passa non passa il numero bravo Marco andiamo avanti come dice il numero 10 Rosy, centro del palco abbassiamo anche questa volta le luci DJ Giggle basta andiamo avanti numero 06 bellissima abbassiamo le luci DJ Giggle non passa non passa il maschetto è una femminuzia fino a questo punto andiamo avanti dove? certo dove è il maschetto e la femminuzia? il maschetto è la femminuzia ah ho capito andiamo avanti ciccio non sapete diventate sempre millenuzia mia ciao Napoli c'è Napoli a proposito che ha fatto il Napoli? ha vinto abbiamo avanti andiamo avanti Daniele codice numero 7 Marco Gangi centro abbassiamo le luci DJ Giggle musica assa nostra gebra nostre sticuatine andiamo avanti Siamo andati agli ultimi due Perché ti ho lasciato alla fine? Crazy, vai Vai al centro Ovviamente in questo caso è l'esclusione Pass E l'altro pass in automatico Stop, vai Passiamo da Lucy A Lucy A Mattia Cinco Non passo Non passo Francesco, fuori di questo momento splendido Centro del banco DJ Jimbo Pass Viene qui, viene qui Bravi, bravi Non ce ne possiamo andare Venite che farei dare insieme alla Nora Alla balletta Nora I non finalisti Vediamo l'ultimo accento e facciamo un applauso Venite ragazzi Un applauso a non parte Venite, venite, venite Un grande applauso per questi nostri sei cantanti Che non ce l'hanno fatta Come visto che sia È la regola del gioco Un inchino al nostro pubblico Non ce l'hanno fatta in questo gioco Ma la vita Un prossimo Tante di quelle soddisfazioni Un applauso Un augurio È solo un gioco Anche la vita è solo Ok Gimbo Facciamo uscire i nostri cantanti I nostri sei cantanti Eccoli qui E i nostri quattro Vengono per me E si accomodano qua su Così quattro Ok Bene L'unica femminuccia è rosi Belli giuri Ciao signorina Complimenti per il giardino fiorito Sia davanti che di dietro Andiamo avanti Andiamo avanti Allora Tarix A questo punto c'è la possibilità di avere un minuto a cappella Quindi hanno la possibilità Non diciamo brutte parole No 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 Un minuto a cappella Silenzio Silenzio Microfono E poi c'è Ah un minuto Un minuto Allora A questo punto io Non dico chi Cioè partiamo come la gradazione Francesco La prima cappella chi la fa? Francesco Francesco Centro Allora a questo punto cosa succede? Il voto è in mano solo alla giuria Quindi attenzione a come votate Sul network lì vedrai 60 secondi Partiranno 60 secondi Un brano a tua scelta Tarix dovresti lasciare il microfono dei cantanti Daniele scusa ci ricordi Sì No vabbè potete Sì Francesco Scrivete Francesco E potete dare il voto da 0 a 10 Quando è pronta la giuria mi dà il cenno che è pronta Così possiamo iniziare Chiedo gentilmente in questo momento a tutta la sala un attimo di silenzio Così si concentrano perché non hanno base musicale Che cappella Esatto Ok Adesso sei pronto? Abbassiamo le luci Un minuto da questo momento Vai Le solite scuse Le solite storie Bugie e speranze A volte l'amore Mi guardo allo specchio Mi trovo diverso Mi trovo migliore Un nuovo anno che passa Un nuovo anno in sanità Che senso di vuoto Che brutta ferita Ferito da te Da me Da quello che non c'è stato mai Esplode Esplode Il cuore Distante Anni Luce fuori da me Sei colpa mia La gelosia Il tranche Tutto e resta niente Eeeeee Qui Un applauso al nostro Francesco Il personale di più Che non è stato Ok Bella cappella E' piaciuta Ma divino così I giudici hanno già votato Tutti Benissimo Andiamo avanti Chi c'era dopo il tuo C'era Marco 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 Gallucci Esatto Cappella A te Passiamo le luci Sessanta secondi Da questo momento Vai regia Sessanta secondi E' una meta che Ce la posso fare Io ce arriverò Io ce la farò E ogni ostacolo Che supererò Sarà come Il colpo d'aniela Io volerò Questo è il momento più difficile Perché intanto Lo suono Dove essere il mio conto Mi ricordi benissimo Romina Esatto Andiamo avanti Terzo Simone Simone Sì Bravo Simone Simone Ok Un attimino Così scrivono la giuria Da questo momento Sessanta secondi Vai regia Sessanta secondi Sessanta secondi Sessanta secondi E io dove il mare luccica E tira forte il vento Sulla vecchia terrazza Quante col futti Sorrento Un motraccio Un motraccio Un ragazzo Tampocchia aveva Canto Sessanta secondi Sessanta secondi E con un chacanto Sessanta secondi Dei il Roosevelt E il suo mercato Sessanta secondi Quando la natura offre A oleh donaldia O Giardino Fiorito, la nostra Rosy. Ok, Rosy, guardami negli occhi. Sei pronta? Prontissima. 60 secondi da questo momento, vai. Io che non so scordarti mai, per te darei la vita mia, e dirti quello che non sai. Un'ora sola ti vorrei, per dirti quello che non sai, e dirti ancora nei ragionieri, qualcosa sei per me. Un'ora sola ti vorrei, io che non so scordarti mai, ed in questo là non è lei, la vita mia per te. E adesso c'è il momento della votazione, quindi dobbiamo abbassare le luci, fare il nostro jingle, quello che già conosciamo. Lasciamo 33 secondi per far votare la nostra... Che succede, Alex? Aspetta, aspetta, che Alex è... È estasiato. Che succede? Soprattutto Simone. E non possiamo dirlo, ancora che... È chiusa, è chiusa la votazione. È chiusa? Chiusa. 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 Ok. Da questo momento passiamo le luci completamente. 33 secondi, DJ Niosito. Chiusa. 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 Sì, sono loro i nostri quattro super finalisti, bravi, bravi, bravi. Allora, ultime battute della giuria, Tarix, mi riunioni tu gentilmente, l'ultime battute della giuria, così diamo il tempo di fare i conteggi e subito regateremo il quarto, terzo, secondo e primo. La giuria è determinata, già ha emesso il verdetto. Ok, voglio qualche battuta così pensiamo in tempo di fare le votazioni. Allora, va bene che i finalisti dovevano essere quattro per regolamento. E ti guardo tu? Sì, però voglio dire, secondo me c'è una persona tra gli esclusi che doveva essere lì, insieme a questi ragazzi. Vuol dire? No, mi ricordo, il ragazzo, come si chiama? Io sì, mi sembra trovato. Marco Trovato. Perché noi abbiamo dato, noi, possiamo dire, come giuria abbiamo dato tutti un voto alto. Però è anche vero che anche se non è tra i primi quattro, può avere lo stesso delle chance, no? Assolutamente dovevamo dividere il 50% della giuria. Loro sono tutti e quattro bravissimi. Bravi, bravi. E soprattutto, sì, sì. Abbiamo il verdetto pronto, Giuseppe? No, 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 ancora, è dall'altra parte che stanno facendo i conteggi, Dari. Ah, perché mi aiuta gentilmente a ci dire qualcosa? Prego. Siamo dovuti ricredere, dovuti ricredire, dovuti ricredire, su Primavera. Quando ha cantato Primavera non è stata... Anzi, è il volume della voce. Quando ha cantato Primavera non è stata tanto brava quanto adesso... A cappella. Tantissimo, complimenti. Perché la ragazza a cappella se la gava bene. Bene. Lebra e Romina, voglio sentire qualche battuta gentilmente, così diamo anche tempo per fare conteggi. Sì, io l'ho detto. Come l'ho detto adesso, uno dei miei preferiti, purtroppo è stato escluso, però... Non voglio dire, va. Non voglio dire niente. Non voglio dire niente perché ho sentito e mi sono ricreduta anch'io su... Sulla ragazza. Rosi. Su Rosi. Senti, ma sai che ti dico... No, no. No, nel senso, sì, mi sono ricreduta moltissimo perché... Fa qualche canzone ancora più alta di Primavera perché sei stata molto brava. Lei è brava. Beh, che dire, io sono molto contenta per una cosa. Sì. Che a prescindere da come vada la classifica fra voi quattro quest'anno ha sicuramente vinto la meritocrazia e il talento. Questo è poco ma sicuro, quindi bravi. Benissimo, benissimo. Io nel frattempo andavo a controllare... Daniele, sai che ti dico? Cosa mi dici? Visto questi ragazzi così bravi, non sono loro quattro, ma anche tutti gli altri. Ma se noi quest'estate ne facciamo un altro? Non ci dici. Un altro? Ma tu sai quanto mega lavoro e quanto... Guardami come sono. Mi sono dovuto mettere i pantaloni rarchi perché ormai sto scomparendo. Mega lavoro. Faremo qualcosa di carino, sì. Magari durante il cucina party così? Ecco, assolutamente, assolutamente. Allora, stanno fredendo. Stanno fredendo. Stanno fredendo. E lo so, però non siamo dei tempi in attivino. Arrivati. I DJ mi da... Ok, vedi, velocissimi. Ma diventi forever. Bravi. Ok. Siamo pronti con la busta, scendiamo un e-a busta. E la sempre lei la porta. Sempre lei? La annunciamo? Sì. Madame Nora. Alla Franse. Nora. Grazie, è splendida. donna del 2013. È una nuova donna. Di un altro pianeta. Di un woman. Sì. È splendida. Però ma anche molta simpatia. Simpatica. Questo, senza dubbio. Vieni qui con me, che le facciamo insieme. Vieni, vieni. Ma fai la sera con lui? Eh, vabbè, ne crediamo almeno il quarto, il terzo, il secondo e il primo. Allora, quarto e terzo, perché poi dopo dobbiamo presentare lo staff di Maddox. Quarto e terzo te lo lascio a te. Oggi da dire che i Catalino sono, hanno l'occhio fino. Hanno l'occhio fino. Allora. Quarte, ora è il quarto posto? Quarte e terzo, il secondo e il primo me lo lascio a te perché devo presentare lo staff di Maddox. Va bene. Allora, il quarto posto si è classificato, ladies and gentlemen, madame et messieurs, number one, Francesco. Francesco. Bravo. Bravo. Lo facciamo un applauso più grande per Franceschino. L'anno scorso non ti eri classificato tra i quattro? No. Eri arrivato? Ricordi? Diciamo un po' così. Esatto. Quest'anno invece ci sei riuscito. Bravo. Vedi, in anno e in anno facciamo sempre dei progressi. Ti ricordi la posizione, vero? Andate dall'angulo come ripeto. Basta, andiamo avanti. Assolutamente. Sì, prima però di decretare il terzo posto io volevo accogliere tutto lo staff di Equipart Group sul palco. Certo. Che ci ha, e facciamo un applauso ai nostri padroni di casa della domenica. Equipart Group. Equipart Group, veloci, veloci. Ci stavano arrivando. Ci stavano guardando un po' di spettacolo. Un po' di spettacolo. Eh, va bene, sì, è giusto, è giusto, è giusto. Ok, in questo caso si prepara anche tutto lo staff di Equipart Group sul palco. Stacco di Equipart Group. Si prepari alle varie tavolini. Siete due, eh? Va bene, fate la rappresentanza quindi, no? Certo, hanno mandato i maschietti. Esatto. Noi siamo pronti per decretare il terzo. Ah, scusa, il quarto ho già portato. Terzo. Esatto. Non è che sbagliare, no? No. Allora, il terzo posto. E' arrivato allora. Amore. E' da un caleone di sciro. Senti, un po' molto meglio a parte. Allora, dai, basta scherzare. Al terzo posto, numero due, Marco. Marco, 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 Marco. Bravo. Bravo. Allora, vieni qui, vieni qui. Ma perché sei così? Senti, è finita. E' l'azza di. È finita. Danix, aiutano tu un pochettino ad ammorbidire questa tensione. O lo vanno a raffanno. Dico, ok, ci pensi tu direttamente. Direttamente, direttamente. Va bene. Faremo tante belle cose quest'estate. Volevo prima di concludere di interpretare il vincitore. Chiedo gentilmente a Rosa e a Simone di abbracciarsi, baciarsi. Centro della pista. Vorrei presentare il mio staff, una bella sigletta DJ, fai tu quella che ti dici per fortuna, per presentare tutto lo staff di Madre Venti. a pulicciare dalla nostra splendida valletta Dora. Un applauso a Dora. La nostra PR Stefania Salomone. Eccola qui. La nostra bella, bella, bella fotografa. La Federica Stella. Non ti vergognare, non ti vergognare. Mi hai fatto le foto, Federica? Brava. Sì. La nostra cantante ufficiale, fino adesso, poi si dividerà il compito con qualcun'altro, qualcun'altra, la nostra Tevra. E il processo in fullo, chi c'è? Mi si affaccia alla prossima. Tutto la... Oh, la mia splendida, unica, amica, compagna di viaggio, Marika Salvi. Quindi com'è, amore? Bella coppia, sì, di noti giusti. Giovani, frizzati? Eh no, sei giovane, sì. Sì? Ancora, quasi. Che vuoi dire? Vuoi dire due parole? Io vorremmo dire che il vincitore, vincitrice, andrà in trasmissione da quarto. Quindi, siccome ovviamente ci vedeva a dirlo, ti ringraziamo, non lo vedo, perché questa luce non vedo nulla. Quindi, un po' di secondi, veloce, veloce. Buonasera a tutti, grazie. Allora, il vincitore punto verrà. Toia, agio, raggiungimi su in pista. Verrà direttamente questo giovedì alle 18 in punto, in diretta su Sesta Rete. Quindi, anche voi, tutto il pubblico, seguidici, noi vi aspettiamo. Mi raccomando, giovedì alle 18. Sesta Rete. Canale 215, di originale, di resto. Dario, lo so, carina. Spero, caro. Grazie, Claudio, grazie a tutti per uno sfatto di Sesta Rete. Salite sul palco, anche voi. Venga qui, salta al su, come state? Sì, ve lo farsi o c'è, la serata è bella. Ma sì, Marco e Francesco sul palco, anche voi. E noi siamo pronti per decretare il vincitore. Vedrete sulla schermata in automatico. A base alle luci. Il nome del vincitore in automatico. Tutte. L'altra persona sarà, ovviamente, il secondo o la seconda classificata. Maleventi ringrazia sentitamente il Pegasus, che ci ha gentilmente ospitato in questa finale. e ringrazio tutte le persone che credono in noi e che continuano a credere nei nostri progetti. Grazie di vero cuore. E da questo momento andiamo a vedere chi è il vincitore di questa quinta edizione del concorso X-Mada We are Pegasus. DJ, jingle. Marci! E da questo momento andiamo a vedere chi è il vincitore di questa quinta edizione del concorso X-Mada We are Pegasus, che è il vincitore di questa quinta edizione del concorso X-Mada We are Pegasus. Sono da questa quinta edizione del concorso X-Mada We are Pegasus. Simone! E da questo momento andiamo a wygląda a vedere chi è il vincitore di questa quinta edizione del concorso X-Mada We are Pegasus. From обязательно andiamo ad Verse 61 x-Mada We are Pegasus. bravo, complimenti, grazie, in campo, lo vedremo con noi e noi in Arix dobbiamo continuare con questa magica strada, vuol dire qualcosa al vincitore? Niente, Francesco che ce ne facciamo di questo vincitore? Lo sa? Eh, farà un bellissimo musical, va di 5, e vai che la tua strada andrà sempre dritta Grazie a tutti, il tempo di levare le sedie e i tavoli della giuria, dopodiché partiamo subito con la musica, siamo in orale, grazie Arix, arrivederci!